ok oggi andremo a continuare il nostro percorso in matematica finanziaria i primi tre video erano sulla cosiddetta capitalizzazione se vogliamo se vogliamo detto in maniera proprio semplice 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 per i primi tre video quindi per i primi tre capitoli siamo andati avanti nel tempo cioè noi dicevamo per esempio se io investo x oggi quanto tengo tra cinque anni che quindi andavamo avanti nel tempo nel senso avevamo una somma di denaro oggi ok e volevamo sapere questa somma di denaro quale sarebbe stato il suo valore tra tre anni quattro anni cinque anni eccetera quindi andavamo avanti nel tempo quello che faremo oggi sarà non la capitalizzazione ma l'opposto cioè l'attualizzazione attualizzazione nel senso di andare indietro nel tempo che anche questo molto tra virgolette io te lo dico giusto per fartelo capire non non è in realtà andare indietro nel tempo ok ma penso sia più semplice per per comprenderlo e l'idea è per esempio quanto sei disposto a investire oggi per avere 3.000 euro tra tre anni in questo caso tu stai andando indietro nel tempo perché il punto di partenza non è più o un capitale quanto tengo tra ma ho 3.000 euro io tra tre anni cioè otterrò 3.000 euro tra tre anni quanto sono disposto a investire oggi quindi vado indietro nel tempo quello che faremo sarà vedere l'attualizzazione per tutti e tre i regimi che abbiamo fatto semplice composto interesse anticipato e poi faremo un esercizio esercizio che sarà con il composto perché tanto soprattutto la parte dell'attualizzazione la farai per la maggior parte dei casi con interesse composto quindi poi vedremo un esercizio di attualizzazione anzi sarà un po un mix un po di attualizzazione un po di capitalizzazione eccetera con il regime in capitalizzazione composto quindi direi che ci siamo e passiamo alle nostre slide così partiamo con la nostra attualizzazione ciao scusa l'interruzione ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace a schiacciare la campanella così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video vado via buona continuazione ciao quindi abbiamo visto fino ad adesso la capitalizzazione quindi nel senso di andare avanti nel tempo tipo un capitale di x quanto vale tra tre anni adesso vedremo invece come ti dicevo l'attualizzazione cioè quando anni vogliamo andare indietro nel tempo cioè quanto sei disposto ad investire oggi per ricevere x tra cinque anni quindi al punto di partenza questa volta x il dato noto è x cioè io ho x da 5 anni quanto sono disposto a investire oggi in realtà è molto semplice perché basta mettere il capitale come incognita invece del montante cioè se ci pensi rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad adesso è che mentre prima avevamo il montante come incognita ok quindi dovevamo trovare il montante adesso invertiamo la formula invece di dover trovare il montante facciamo che l'incognita diventa diventa il capitale quindi dobbiamo a questo punto trovare il capitale iniziale avendo magari l'incognita al tasso il tempo ma vediamo un pochettino più nel dettaglio per tutti e tre i nostri regimi che abbiamo già affrontato quindi per quanto riguarda la capitalizzazione semplice allora qui ho ripreso alcuni appunti della nostra capitalizzazione semplice e noi avevamo detto che il montante era uguale al capitale per la funzione di capitalizzazione dove la funzione capitalizzazione era uno più i per t adesso abbiamo detto che dovendo andare indietro nel tempo cosa succede come se mettessimo il capitale come incognita quindi cosa facciamo noi dividiamo ambo i membri per f di t e quindi diventa che il capitale è uguale al montante fratto uno più i per t ok quindi questo diciamo è un la nostra funzione o diciamo il nostro metodo di attualizzazione cioè per trovare un capitale in per esempio il capitale c prendiamo il nostro montante e lo dividiamo per uno più i per t in capitalizzazione semplice ovviamente ma andiamo a vedere quello che potrebbe essere un mix di capitalizzazione e attualizzazione ok questa è soltanto la parte 1 del video la parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno se però nel momento in cui tu stai guardando questo video la parte 2 è già uscita cliccaci corri e vai a vedere anche la parte 2 del video se non fossi uscita mi raccomando clicca la campanella e iscriviti così quando uscirà riceverai direttamente una notifica a presto